Meghan Markle, duchessa di Sussex, è un'attrice statunitense, moglie, dal 19 maggio 2018, del principe Henry, duca di Sussex, e madre di Archie Harrison e Lilibet Diana. La principessa del galles Kate Middleton continua in silenzio, e lontano dagli obiettivi la sua battaglia contro il cancro. Così come Re Carlo, che è tornato a presenziare agli impegni più importanti. Ma sotto i fari dei tabloid britannici, ci sono anche i duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle. E la riappacificazione tutta in salita con Kate e William. Ebbene, il mirror ha scoperto un tempismo curioso in una serie di foto che ritraggono Meghan impegnate in una visita benefica in un ospedale per bambini. Le foto sono state scattate una settimana e mezza fa, ore prima che la principessa del galles Kate Middleton facesse l'annuncio della diagnosi di cancro. Ciò ha portato alla teoria secondo cui la duchessa di Sussex ha trattenuto le foto per un po' per dare a Kate il suo tempo, scrive il tabloid che tuttavia non lesina ironie sottotraccia sulla duchessa. Meghan si è fermata a Los Angeles Children's Hospital il 21 marzo, mettendo in mostra le sue capacità di recitazione mentre leggeva libri, come Rosie de Riveter, Petey il gatto, e ho visto un gatto. Il giorno successivo è andato in onda sulla BBC il video di Kate, mentre le foto della visita di Meghan sono emerse solo il 2 aprile.